Fulvio e Giovanni, due giovani messinesi, hanno 27 e 28 anni, due imprenditori moderni 2.0, lo possiamo dire, che hanno creato un prodotto, un brand, un marchio, si stanno affermando da ormai un anno e mezzo a questa parte nei mercati di tutta Italia, ci raccontano che cosa si sono inventati, partiamo da questa scritta sulla maglietta. È nato da un'idea che mi hanno lanciato gli amici miei chiedendomi di fare un libro per stile elettronico, quando io ancora non avevo idea di cosa fossero, si trattava di quasi due anni fa questa richiesta, avendo lavorato già per molti anni nel campo della creazione di aromi e fragranzi, ho detto ragazzi, faccio qualche prova. Ecco, perché si sono rivolti a te? Tu hai una storia, un percorso formativo che ti ha portato quando eri molto giovane fuori dall'Italia, hai studiato in Francia, hai studiato in Germania, che cosa esattamente? Ho studiato in Francia creazione e composizione di profumi e aromi alimentari, i miei amici lo sanno benissimo che ho fatto questo percorso di studi e quindi per gioco mi hanno chiesto di creare qualcosa per loro. Le richieste sono state continuative e abbiamo deciso di creare il vero e proprio brand che si chiama Antidote per il che andava un pochino contro il mass market che c'è su liquidi per sigarette elettroniche per applicare un liquido migliore che ti possa aiutare a smettere di fumare con più facilità. Uno dei traguardi più importanti raggiunti finora in un anno e mezzo è stata sicuramente l'esposizione a Verona alla fiera Alva Pitoli che è una delle fiere più grandi d'Europa per quanto riguarda il mondo del liquido, delle sigarette elettroniche e dell'hardware. Portare il lavoro 2.0, il lavoro digitale, l'imprenditore digitale a Messina è una novità perché Messina è una città statica, non si evolve, non piace andare troppo avanti, non stare al passo con i tempi. Io avendo studiato fuori, avendo fatto comunque percorsi di studi differenti, mi sono accorto che o sei dentro il digitale e comunque allora puoi andare avanti perché puoi fare self promotion, puoi spingere da solo senza avere chissà quale aggancio, ti fai la tua immagine e cresci da solo con le tue forze. La nostra presentazione avviene su Instagram, noi siamo riusciti a generare 1400 follower organici in un paio di mesi di crescita. Per noi Instagram è quel ponte che ci connette a tutte le realtà, anche piccole, anche al cliente privato, perché non ti muovi da dove sei, qualsiasi cosa tu stia facendo e se vuoi provare il nostro prodotto ci scrivi e ci si mette d'accordo vedi una foto, vedi la descrizione, vedi quello che è, il prezzo, quanto costa, poi me lo vuoi comprare, ci fanno il messaggio e il prodotto di arrivare a gioco in casa. Grazie.